Ci sono mille modi di vivere, di operare per la pace. Il primo tra tutti è quello di stare, di esserci in zone anche difficili, particolari, come fa un prete che noi amiamo, si chiama Don Giacomo Panizza. E noi andiamo a trovare subito... Don Giacomo, benvenuto! E grazie. Don Giacomo Panizza è uno di quei preti che non ama essere definito anti-mafia, anti-qualcosa. Perché i preti non dovrebbero essere anti, i preti dovrebbero essere con, laddove possibile. Don Giacomo ha una storia bellissima. Lei, uomo del nord, che si innamora della Calabria a un certo punto della sua vita, Don Giacomo. Toccando le povertà, la porto a Capodarco, dove lei da seminarista era stato a visitare, a fare un po' di esperienza con gli scarti, come li chiamerebbe Papa Francesco, con uomini e donne meravigliose in realtà. Che cosa scopre? Scopro che sono capaci di grandi cose. Cioè, non sono incapaci. Sono incapaci perché dei limiti, come tutti chi è in carrozzina, in sedia a rotelle, con certe malattie poi che vanno avanti, anche molto di più. Però dopo da qualche parte di dentro tirano fuori anche, non solo il dolore, ma anche la risurrezione. E allora si può fare grandi cose insieme. Non su di loro, ma con loro. Don Giacomo, noi parliamo di oltre vent'anni fa. Quaranta. Anzi, ecco, io volevo essere un pochettino un po' più così. Parliamo di quarant'anni fa, in tempi in cui le persone che avevano almeno apparentemente delle capacità in meno rispetto agli altri venivano o chiuse in casa o messe negli istituti, in modo che si fossero tolte probabilmente dalla vista di qualcuno. E lei però qui fa un incontro con alcune persone che venivano dalla Calabria. e si rende conto che quella era una terra che aveva bisogno di un prete, forse giovane come lei, che aveva mille speranze e mille sogni. Cosa la porta in Calabria? È loro. Loro, perché chiacchierandoci capivo che non volevano rassegnarsi. Perché la rassegnazione è il momento che si precipita. Però volevano reagire ma non sapevano come. Anche perché hanno la stessa famiglia che senza cattiveria o che c'era quella protezione che ti tiene seduto, ti tiene a letto, ti tiene incapace. Mentre avevano dentro anche i sogni più strani, anche i desideri più balordi, eccetera, eccetera, ma che erano quelli dell'età dei loro coetanei. Perciò non è che uno è santo perché è in carrozzina, è sofferente perché è in carrozzina. Però venivano ritenuti santi e incapaci e bisognava aiutarli. E lì la lampadina è stata quella del che dovevano fare grandi cose. Perché nei miei studi era uscito questo, che il cieco nato, Gesù dice non è colpa sua, non è colpa dei genitori, ma in lui si devono manifestare le grandi opere di Dio. Giacomo, questo Vangelo che l'aveva nutrito fino a quel momento diventa qualcosa di grande. Ma perché c'è sempre il Vangelo in mezzo? Perché lei non è soltanto un imprenditore della carità con il suo progetto sud? Cos'è che fa la differenza nella sua comunità rispetto a uno che può essere un visionario, ma può essere un bravo imprenditore che mette su qualcosa di grande per i disabili? Oddio, le cose con gli altri bisogna farle. Dopo certo ci vuole anche il come li vediamo. Farò qualcosa per loro o farò qualcosa con loro? Perché qualcosa da dire, da dare ce l'ho anch'io. Ma c'ho tanto anche da ascoltare e da prendere. E da chi devo prendere? Non posso scommettere su quelli che sono in croce? Non posso scommettere su quelli che vengono considerati diversi nel senso di inferiori? Perché la diversità c'è in tutti e tutte. Ma l'inferiorità no, quella no. Progetto sud, cosa è diventato in questi anni? Come ce lo dobbiamo immaginare? Boh, immaginiamolo come dove adesso c'è l'acqua alta, come una laguna, no? Con tante isole, tutte però raggruppate insieme, che fanno un mondo. Perciò il primo gruppo che ho messo su insieme a persone in carrozzina, persone che venivano lì a vivere la propria vita, nemmeno c'era l'idea di chiamarsi volontariato. Ma c'era l'idea, e volontariato ci siamo, però c'era l'idea del dire noi viviamo insieme. Ecco, da quel gruppo di vita in comune, 25 persone, chi in carrozzina, chi in piedi, maschi e femmine, chi credeva, chi non credeva in niente, eccetera, eccetera, adesso è diventato un gruppo di gruppi, alla mezza termine, circondarie, comuni. Ma gruppi che scommettono che si può fare comunità anche non abitando più insieme. Perché la vita è la scommessa che si fa per cambiare la Calabria. La vita è la scommessa che si fa perché alla Calabria, non soltanto chi fa il prete, o chi ha studiato, o chi è imprenditore, o chi ha i soldi, quelle cose lì, ma in Calabria quelli che sono deboli possono dare tanto alla Calabria. Don Giacomo, questa, che è qualcosa di più di una semplice filosofia, tutto questo però a qualcuno non è piaciuto, quel qualcuno sono quelle persone che vorrebbero gli ultimi schiavi, che vorrebbero farli stare in silenzio, che vorrebbero dominare, che sono avvezzi a fare cose poco belle. Per cui lei a un certo punto ha iniziato a dare fastidio, tanto che la polizia si è interessato a lei, le ha proposto una scorta, lei invece ha preso una decisione diversa, quella di essere comunque un uomo libero, anche se tenuto a comunicare ogni giorno dove va e che cosa fa. Quando abbiamo messo su il primo laboratorio, la prima fabbrichetta, per parlare alla Bresciana, io vengo... Fabbrichetta? E lei è stato operaio, tra l'altro, quindi conosce quegli ambienti. Perché a vivere insieme c'è tanto da spendere, c'era la casa da aggiustare, c'era si mangia, c'era la corrente, tutte queste cose qui. E allora abbiamo messo su proprio il lavoro e ci siamo messi a lavorare, a produrre, a vendere. E dove anche chi era in carrozzina lavorava, non sono passate tre settimane che sono venuti a chiedere il pizzo. Sto parlando del 1976. Lì i primi scontri, ma erano scaramucce, però ecco quell'episodio che lei sta richiamando è stato quando abbiamo aiutato la città a utilizzare le case confiscate. E il prefetto, che era lì a commissariare la mezzaterme, ci ha proposto di prendere una casa pericolosa perché è una villa all'interno di un cortile con un'unica entrata, che è quella di un clan. E quelli del clan l'hanno vista come un affronto, no? Mentre per noi era la cosa giusta da fare. E lì lo scontro è avvenuto. In quello scontro le intercettazioni della polizia, e io sono qui perché ci sono le intercettazioni, no? Che dicevano che mi uccidevano e queste cose qui. A me lo dicevano anche a tu per tu. E lei come rispondeva? Io facevo il finto tonto. Cioè che rispondevo? Che rispondi a sei o sette mafiosi che ti dicono, che ti uccidono? Rispondevo, ma che state inventando? Non vi sembra di esagerare? Ecco, queste frasi che non mi portavano a scontrarsi. E però dopo un giorno la polizia mi ha chiamato e mi hanno detto che dovevo smettere di fare il prete che risponde così, no? Perché mi avrebbero ucciso davvero? Perché tra quei sei o sette quel giorno c'era un loro killer uscito dal carcere per decorrenza di termini. Ma aveva già due ergastoli. La polizia mi ha detto che gli importa a lui di prendere il terzo. E allora lei mi ha messo la scorta. Sai Don Giacomo, lei sta raccontando tutto questo come se fosse una favola che un c'era una volta. Quando lei parla di scaramucce, lei parla di attentati, un numero, un elenco interminabile di attentati lei lo dice con questa serenità. No, 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 è serenità. Vabbè, mi scusi, ma noi quello che vediamo è come per dire tutto fa parte di questa cosa più grande. Ma io le domando lei ha avuto paura, lei ha paura, lei è uno di quelli che non ci dorme la notte su queste minacce? Oppure come si fa a continuare ad andare dritti per la propria strada senza apparentemente, rifiutando anche la scorta, perché lei ha detto chiaramente che... No, l'abbiamo pattuita perché giustamente ti proteggono. Ma mi stanno proteggendo anche adesso, ma è questo il punto. È un programma di protezione. Però mi sembrava che fai le messe ai carabinieri e alla polizia, fai una cosa e c'è sempre. E va bene, va bene che ci siano. Però quando mi hanno anche detto che alcuni di loro erano stati uccisi, ma dai, lo sapevo, alcuni di loro erano in carcere, chi è latitante, c'era stato anche un primo pentito tra di loro, cosa era nell'andrangheta. E mi hanno detto che avrebbero cambiato e ho detto, meno male, ma non perché... Perché secondo me è giusto avere la scorta come anche averla un po' di meno. Ecco, non lo so. Io ho scelto il po' di meno. Don Giacomo, lei è stato infinito nel Cilento, tra l'altro a Camerotan, un premio bellissimo, un premio internazionale per la pace, il premio Nassiria. E noi questo ci siamo posti. Pensiamo che la pace sia un problema lontano, nelle zone di guerra, ce ne andiamo fuori dai nostri confini. E poi invece vediamo che un prete come lei viene insegnato di questo premio giustamente perché sta in una Calabria che ama più della sua stessa vita, dove ha deciso di spendere tutta la sua vita e che un po' sta cambiando anche grazie a presenze come la sua. Lei ha detto, pian pianino, le cose le possiamo cambiare. La Calabria di oggi, quella che deve far festa con lei, con questo premio, quanto è cambiata, quanto è diversa rispetto a quella di 40 anni fa? Ma no, è cambiata. È cambiata nel sapere. Cioè, 40 anni fa, quando nelle scuole, in parrocchia, nelle parrocchie, dicevo, Andrangheta mi ha chiesto il pizzo, no? E mi dicevano che no, no, che non si doveva chiamare così. Ma che erano dei balordi, che erano dei... che non erano... avevano paura a dire mafia, Andrangheta. Ecco, oppure c'era chi diceva se c'è non si cambierà mai. Invece adesso no, adesso tante cose sono cambiate. Anche i giovani stessi, differentemente dal passato, riescono a dire è vero, c'è. Manca l'organizzarsi. Manca il dire mettiamoci insieme perché questi bisogna fermarli. Perché bisogna fermarli. Stanno esagerando, insomma. No? La tengono continuamente lunga. non ci sono più i boss perché tanti sono stati uccisi o sono in carcere. Ma si continua. Ma le nuove leve esistono. Infatti l'ultimo 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 che ci hanno bruciato i terreni, eccetera. Ecco, è stato un paio di anni fa e sono stati proprio i giovanissimi che che stanno imitando i genitori adulti e però il male che stanno facendo non l'hanno capito. Lei ha speranza che le cose veramente possano risolversi e le dice vanno fermati. Lei ci crede fino in fondo che ci riusciamo in questa battaglia? La battaglia è lunga ma bisogna comunque farla anche se li dimezziamo. Forse solo per quella. Senta, Don Giacomo a quei ragazzi che le hanno bruciato i terreni l'ultima volta proviamo a contrapporre i ragazzi che invece bussano la sua porta e dicono io ci voglio stare con voi voglio provare a immaginare una Calabria diversa sono numericamente superiori sono tanti sono ancora troppo pochi per sposare questa vita nuova o no? Sono ancora troppo pochi anche se il punto non è collaborare con chi sta facendo le cose il punto è avere in mente che quello che si fa va differentemente da quelle logiche cioè se c'è una famiglia che non è mafiosa ma pensa solo a sé non cambia la Calabria se c'è una ditta che pensa solo a sé al suo profitto non cambia la Calabria qui bisogna mettere in piedi ma se c'è anche una parrocchia che pensa solo al proprio campanile non cambia la Calabria questa è una chiave molto nuova e diversa non ci deve essere soltanto il certificato di mafioso per dire che si è purtroppo di un certo ambiente ognuno di noi che forse non agisce o che tiene tutto per sé rischia di far male a questa città a questo paese la Mezzia Terme a questa terra meravigliosa che ha bisogno di gente come lei Don Giacomo senta un po' lei ha ancora paura o ha capito che forse non possono farle del male più di tanto a lei a Progetto Sud a tutta la sua avventura mi dica la verità c'ha ancora paura? Che questa domanda non è all'interno della logica mafiosa un mafioso non può non far paura non può non vendicarsi non può perché altrimenti si indebolisce è un prete perché perché continuamente ci fanno danni anche sapendo che se vengono direttamente io li denuncio ancora perché devono dire alla città che chi non obbedisce loro comandano loro ci tagliano le gomme loro ci sparano in camera loro ci bruciano i terreni loro tagliano i freni cioè il punto qual è? che loro i mafiosi devono fare i mafiosi però io devo fare il prete e il prete che fa? che fa il prete? che fa il prete? il prete mette nella sua vita anche la paura mette nella sua vita anche lo so pensate a Gesù nell'orto degli ulivi che fa? in croce che fa? la vita è pesante in certi momenti ma non è tutta pesante però in certi momenti sono i momenti del decidere del decidere che invece che abbassare la testa e obbedire a questi mi tengo un sacco di paura che anche di notte mi entra in pancia no? e e dico io non sono più io se mi abbasso la testa davanti a questi io non sono più io se faccio queste cose Dio la benedica se potessi vorrei toglierle un po' di quella paura ma sono qui siamo qui per quando ho bisogno va bene grazie 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 a tutti voi ci siamo capiti ci siamo capiti ciao a tutti e a tutte di qua